Buonasera, benvenuti. Questa edizione del Locus Festival stasera ci porta in un territorio interessante. Allora, io voglio dire una cosa. Raccontare la storia di un uomo è sempre un'impresa ardua. Bisogna immedesimarsi all'interno delle pieghe della sua personalità e poi magari cercando di cogliere, qualche volta invadendo anche la sua intimità, la sua intimità più recondita e cercando anche di cogliere i tratti caratteristici della sua personalità. E poi bisogna anche cercare di evitare le sbavature e anche le banalizzazioni. Oggi siamo invasi da biografie, da racconti, da libri più disparati. Quando quest'uomo è un artista il compito diventa ancora più difficile perché bisogna non solo cercare di conoscere il suo modo di approcciare la sua arte ma anche informarsi in maniera piuttosto certosina su tutto quello che l'artista in questione ha prodotto. E gli artisti, si sa, sono delle persone suscettibili. Quando poi quest'artista risponde al nome di Franco D'Andrea la questione si fa ancora più complessa perché Franco D'Andrea che è qui con noi e abbiamo il piacere e l'onore di averlo con noi, fate un applauso. Franco D'Andrea ha attraversato più di mezzo novecento, un secolo che come tutti sappiamo è stato importantissimo in termini di innovazioni, in termini di cambiamenti e lo ha fatto da protagonista, cavalcando queste innovazioni, questi cambiamenti, dando, come posso dire, un imprinting molto personale e lasciando delle tracce importanti. Genio e regolatezza. Si legge nella quarta di copertina e anche nella prefazione che Enrico Ravo, un suo grande amico, ha firmato su questo libro che stiamo per presentare. Ecco, io credo che in queste due parole siano sintetizzate i tratti caratteristici della sua personalità, una personalità che tanto ha dato alla musica italiana e al jazz europeo. Flavio Caprera, un nostro conterraneo che si occupa ormai da molto tempo di jazz, ha affrontato tutto questo con grande eleganza in questo libro che si intitola Franco D'Andrea, un ritratto, ve lo faccio vedere, e lo ha fatto delineando, diciamo, non soltanto la personalità musicale di uno dei grandi sperimentatori del nostro tempo, ma anche raccontando i cambiamenti che Franco D'Andrea ha attraversato nella sua vita appunto da protagonista. Franco D'Andrea, e chiudo, alla veneranda di 80 anni, alla veneranda età di 80 anni che ha compiuto l'8 marzo scorso, continua a sperimentare con una vitalità e uno spirito che sono straordinari. Lo vedrete fra poco, insomma, sul palco dell'Ocus, quando interagirà con DJ Rock, che poi è il nickname di Luca Roccatagliati. Allora, fatta questa bella filippica, io adesso devo di prammatica chiedere a Flavio Caprera come nasce l'idea di questo libro, che è molto interessante, io vi invito ovviamente a procurarvelo e a leggerlo, e come soprattutto convinci uno come Franco D'Andrea a raccontarsi e a far sì che venga fuori appunto questo libro qui. Innanzitutto vi ringrazio, ringrazio Nicola Gaeta, ringrazio Franco D'Andrea per essere qui questa sera e anche voi. Perché nasce il libro su Franco D'Andrea? Ho cominciato a intervistare Franco D'Andrea tantissimi anni fa e poi è entrato di diritto in un paio di miei libri, il primo era Jazz Music e l'altro il Dizionario del Jazz Italiano. E mano a mano che studiavo Franco D'Andrea e ascoltavo i suoi dischi e mi rendevo conto che la statura di Franco D'Andrea non era rappresentata così come doveva essere, nel senso che Franco D'Andrea aveva diritto, ha diritto a un libro su di lui, un libro che racconta la storia di un musicista che ha fatto la storia del jazz italiano. Meglio è colui, assieme a Enrico Rava, Giovanni Tommaso e qualche altro, ha modernizzato questa musica in Italia e poi è diventato uno dei massimi esponenti in Europa e nel mondo come pianista e compositore jazz. Quindi ritenevo che questa cosa qui doveva essere fatta per forza. Ho incominciato a pensare al libro su Franco sei, sette anni fa. Dopo si è costruita una forma su questo libro quando stavo studiando per il Dizionario del Jazz Italiano. E ho detto tra me e me, non ne parlo con Franco perché prima devo trovare un editore perché altrimenti non sarebbe stato carino. Non appena ho trovato un editore ho chiamato Franco e gli ho detto Franco, il libro su di te bisogna farlo. E Franco sempre con la sua grandissima disponibilità si è messo a disposizione e dopo quattro anni di costruzione di tante ore passate insieme in cui Franco ha raccontato tante storie di jazz che poi fanno parte della sua vita, il jazz, la musica e la vita di Franco D'Andrea sono la stessissima cosa. Tutto si è costruito strato su strato piano piano da quando era un ragazzino fino a oggi che ha 80 anni ed è uno dei più importanti innovatori di questa musica. Quindi io sono veramente felice che Franco D'Andrea abbia un libro soprattutto perché è importante per lui è importante per il jazz italiano ed è importante per tutti quelli che si avvicinano al jazz per conoscerlo, per conoscere chi è Franco D'Andrea che altro non è se non un messaggero anche lui del jazz ma ve lo racconterà meglio lui che cos'è per lui il jazz e la vita e la musica. Io direi di iniziare con le domande così Franco può... Intanto ci diamo del tu, vero Franco? Allora, una volta in un'intervista tu mi hai detto io se non avessi fatto il musicista avrei fatto lo scienziato questa cosa mi ha sempre un po' colpito perché il tuo interesse per i numeri per gli intervalli che poi nella musica sono molto importanti al punto che... Non ero fortissimo in matematica però mi affascinava l'idea della scienza l'idea del concetto di andare ad esplorare delle cose e per tentativi andare a cercare di capire se queste cose avevano un nesso fra di loro e se puoi estrare una legge che metta insieme queste cose e spieghi qualcosa di quello che succede nel mondo il metodo scientifico mi ha sempre affascinato come concetto del metodo scientifico non ero sicuramente in grado di fare lo scienziato perché non ero abbastanza forte in matematica e in fisica però ammiravo moltissimo questo mondo a distanza Senti, c'è questa idea di considerare il jazz una musica legata molto un'arte legata molto all'individualità alla capacità espressiva del singolo quasi ad un fai da te che possa addirittura fare a meno della didattica l'idea per cui se uno a un certo punto decide di imparare a suonare il sassofono forse è meglio che impari ascoltando i dischi di Charlie Parker piuttosto che scrivesi al conservatorio tu che cosa pensi di questa cosa? io penso che tutte e due le cose sono utili nel senso che comunque chiaramente un musicista come me all'epoca non c'era proprio niente di letteratura non c'era nulla pochissimo mi ricordo che c'era un libro dove c'erano trascrizioni su soli di Artetu dei quali io non capivo assolutamente nulla perché ero ragazzino e non era nemmeno spiegato Artetum è uno dei grandi pianisti del jazz è un punto di riferimento per tutti sia per quelli che fanno la tradizione che per quelli come loro stiamo parlando di un virtuoso un grandissimo virtuoso però francamente era troppo non era un modo per non era una finestra per entrare in questo mondo fatato diciamo del jazz e allora cosa posso dire? tornando al discorso della didattica io sono stato favorito dal fatto che non avendo niente diciamo ma soltanto però avevo i dischi i dischi c'erano perfino a Merano dove io sono nato che è un posto piccolino diciamo vicino al confine austriaco grosso modo in Alto Adige c'era comunque un negozio dove comunque vendevano anche dei dischi di jazz incredibilmente magari prediligevano non so alcuni dischi fatti molto bene nel senso registrati molto bene come certi dischi della West Coast dell'epoca però comunque sentivo tutto io ho sentito anche col tren non so come dire si poteva scegliere si poteva ascoltare all'epoca era così e poi decidere quale disco prendevi eccetera quindi io pian piano ho cominciato a sentire qualche concerto di qualcuno che passava fortuitamente diciamo a Merano e poi soprattutto ho sentito dischi e dai dischi ho cominciato a cercare di imparare qualcosa ma non ero in grado di trascrivere bene quella roba perché ero ancora troppo inesperto però qualche cosina mi impressionava molto e questo secondo me è un principio nella didattica molto importante anche oggi cioè se uno è motivato comunque in qualche maniera ce la fa ce la può fare però non riuscivo a essere precisissimo nella trascrizione quindi in realtà supplivo le parti che dove non riuscivo a capire cosa stesse succedendo praticamente le sostituivo con delle parti di fantasia mie allora in questa maniera qua non era una trascrizione meccanica ma io ero attivo come una specie di co-creatore un creatore diciamo insieme a quello che chiaramente la creazione era di questo personaggio che era di volta in volta Horace Silver piuttosto che Tommy Flanagan piuttosto che Coltrane però nello stesso tempo avevo un ruolo attivo oggi mi sembra talvolta che la diciamo la grande quantità di metodi che ci sono per imparare il jazz limiti un pochettino questa creatività singola diciamo e questa scelta che significa anche a questo punto un indirizzo che comincia a crearsi all'interno di musicista e avendo tantissime cose a questo punto è come avere qualcosa chiave in mano già pronto e a quel punto lì finisce che magari cominci a copiare a copiare le cose così in maniera meccanica magari con una grande tecnica una grande conoscenza tutto quello che vuoi però questo è lo svantaggio diciamo della parte non di autodidatta quindi io penso che tutte e due le cose comunque siano utili chiaramente bisogna che qualcuno ti possa nel caso che ci sia un didatta che ti lasci la briglia un po' sciolta cioè vada a aiutare te che stai imparando il jazz ma che sei anche uno in prospettiva che può creare qualcosa di personale in futuro e allora cercare di aiutarti con la tua conoscenza ad aiutarlo con la tua conoscenza a tirare fuori le cose che l'allievo vuole fare in realtà alla fine questo è tutto un'altra tu sei un pianista no? un'altra delle cose che mi hanno sempre incuriosito di te è il rapporto particolare che tu hai con alcuni strumenti no? da un lato il trombone che è uno degli strumenti che prediligi rispetto ad altri e dall'altro la chitarra che invece mi sembra di capire che non ti piaccia utilizzarla parlami di questa nel mio ultimo gruppo ho un chitarrista solo che effettivamente ho fatto poche cose con chitarristi e anche questo chitarrista è un chitarrista molto particolare si è trovato la chitarra in mano ma per caso secondo me avrebbe potuto suonare qualunque strumento è un ottimo musicista molto creativo ma se avesse suonato un altro strumento sarei stato interessato lo stesso a lui non è importante però in questo caso mi serviva perché lui aveva una grande conoscenza delle possibilità timbriche con l'elettronica anche di poter modificare il suono della chitarra tenendo comunque il suono della chitarra in primo piano evidentemente quindi il trombone il trombone è uno strumento formidabile non so come dire quando mi chiedono questo suona al trombone ma aculis chiedo subito perché c'è una differenza enorme cioè l'aculis è un sistema per cui praticamente tu percorri tutta la diciamo la la scala delle possibilità diciamo foniche che uno può avere nel senso che non è che c'è semitono tono o cose di questo genere o discorso così puoi anche fare una nota che è fuori chiamiamola così che è apparentemente stonata ma in realtà funziona molto bene nel discorso che stai facendo nel jazz questa cosa effettivamente è venuta fuori col blues in fondo perché il blues già con le sue inflessioni tutte queste cose qua creava note che non c'erano non so come dire note che non erano nella nostra scala temperata nella nostra classica scala e quindi il trombone mi sembra uno strumento interessante sotto questo aspetto poi c'è un altro aspetto l'aspetto timbrico il trombone è uno strumento che ha delle armoniche come vengono chiamate diciamo degli suoni spuri chiamiamoli così non suoni reali sono suoni reali ma non diciamo i principali suoni dello strumento che escono fuori se tu hai uno strumento di quel genere con quella profondità crea quindi tutta una specie di un alveo da cui escono fuori questi particolari suoni che possono venire fuori da un trombone da una tromba non vengono fuori ci può cosa fare io suonato la tromba non si può fare niente sotto quell'aspetto e il trombone è uno strumento privilegiato in questo senso è fantastico poi gente come faccio per dire Gianluca Petrella che per me è uno dei più grandi trombonisti che esistono al mondo non in Italia al mondo lui riesce a fare delle cose straordinarie con il trombone e lì c'è poco da fare io sono innamorato del trombone c'è poco da fare è così anche il clarinetto mi piace per contrasto senti Franco questa domanda te l'avranno fatta sempre e io ti chiedo scusa in anticipo e so che questa non è proprio in questo momento la tua tazza di tè però io non posso dimenticare che la prima volta che ho sentito parlare di tè io ero un giovincello appassionato di rock ti ho sentito ascoltando il perigeo era il 1972 avevo 16 anni e tu eri approdato a quel mix tra progressive e jazz che in quel momento andava molto di moda molto diciamo più che di moda era molto come dire attuale ma era un periodo in cui era stata presa in considerazione l'elettronica come un possibile mezzo per arricchire la timbrica del jazz diciamo chiamola così però avevi già una storia piuttosto lunga come jazzista come del resto si legge molto bene leggendo il libro di Flavio che ricordo hai di quel periodo anche perché vorrei poi chiederti come fai a un uomo di 80 anni a interagire con uno di non mi ricordo quanti anni hai Luca ma facendo diciamo credo che questa cosa parta un po' da lì no Luca viene da un altro mondo evidentemente il mondo dell'elettronica che è un mondo molto ricco e pieno di grandi possibilità oggi addirittura è un mondo dove ci sono musicisti che si muovono con grande competenza perché è passato tempo e piano piano questa musica si è evoluta è diventata sempre più importante DJ Rocca in questa situazione qua è un fenomeno non so come dire molto semplicemente DJ Rocca è lui eh il perigeo per DJ il perigeo aprì le mie le mie possibilità cioè aprì il mio cervello alle possibilità dell'elettronica rispetto a quello che era però c'era stato già Miles Davis che aveva cominciato a armeggiare con questo tipo di strumenti elettronici e e quindi diciamo è partito un po' tutto da lì la scelta di Miles Davis fu presa inizialmente come una scelta commerciale non so come dire ma se uno rifletteva un attimo e pensava a chi era stato Miles Davis fino allora non poteva pensare che Miles Davis facesse questo solo per quello era sì un amante delle belle macchine delle belle situazioni di essere di stare bene nella vita di avere anche soldi per carità questo è vero però era un artista eccesso grandissimo quindi molto difficile eliminare Miles Davis dalla prospettiva del jazz perché ha osato usare l'elettronica questo piano piano si è capito c'è voluto tempo come tutte le cose profonde hanno bisogno di tempo io ricordo che Ornette Coleman non si impose subito c'è voluto tempo ed era gran musica la sua però dopo ci si è resi conto che era un fenomeno era un personaggio grandioso ci vuole sempre tempo con questa gente qua senti io non voglio rubare troppo la scena chiamiamola così vorrei che anche tu facessi se possibile le domande a Franco se ti va altrimenti continuo guarda mentre scrivevo il libro io stavo leggendo un libro di uno scrittore sudamericano che si chiama Riccardo Piglia e leggendo c'era dentro questo romanzo una frase uno storico che lavora con documenti dell'avvenire al che ho detto ma sì questo è stata una folgorazione è la sintesi di tutto il libro questo è Franco d'Andrea perché Franco tu sei uno storico del jazz che lavora con i documenti dell'avvenire ma io molto semplicemente succede questo che talvolta talvolta succede che mi accorgo di aver tralasciato qualcosa il jazz è una musica talmente ricca che voi avrete capito che io la amo in maniera esagerata mettiamola così è talmente ricca una storia talmente ricca e varia è piena di personaggi è piena di grandi avvenimenti eccetera eccetera che insomma io pur avendo frequentato tanti stili semplicemente perché a un certo punto mi interessavo quando arrivò il free jazz voglio sapere cosa era sta roba così per curiosità era un interessato e quindi ho vissuto diverse epoche in tempo reale e in fondo ho fatto la mia storia del jazz per conto mio suonando però il discorso è questo fondamentalmente che ogni tanto ci si perde qualcosa pure uno che è molto attento a tutti gli aspetti del jazz perché secondo me sono tutti molto importanti puoi imparare sempre qualcosa anche dall'ultimo musicista che ha suonato con Charlie Parker l'ultimo bassista di Charlie Parker aveva qualcosa da insegnarti per esempio era Tommy Potter Tommy Potter aveva questo staccato che per un po' venne deriso perché dopo un po' arrivò Paul Chambers col suo superbo legato ma non è che lo staccato sia una cosa brutta in sé può avere qualche aspetto interessante ci vuole tempo e piano piano capisci che anche quella cosa di Tommy Potter non l'aveva fatta a caso e quindi mi piace l'idea di riscoprire alcune cose che erano state un po' trascurate per esempio ci sono musicisti non so faccio un esempio soltanto in questo periodo del covid io ho avuto evidentemente molto tempo e la fortuna di poter avere non so una minima pensione per poter dire vabbè non sono proprio rovinato completamente ecco però a questo punto ho cominciato a ragionare su quei punti morti dove io non avevo ancora punti bui dove ancora non avevo visto niente e ho riscoperto un musicista formidabile che si chiama Andrew Hill Andrew Hill allora Andrew Hill non è che ecco poi un'altra cosa che volevo dire ci sono musicisti che hanno fatto delle cose straordinarie in un certo periodo poi sono scomparsi improvvisamente sono scomparsi non si sa potrebbe essere stata la vita che li ha portati via non so in qualche maniera qualche avvenimento della vita li ha costretti a smettere a fare questa cosa oppure chissà che cosa Andrew Hill ha avuto comunque un personaggio ha avuto un periodo per me assolutamente straordinario ma non non lo sapevo l'avevo sentito una volta in un disco di Joe Henderson che si chiamava Our Things Our Things Our Things un blue note degli anni 60 più o meno primi anni 60 e ho detto perché conoscevo Joe Henderson dicevo e dove l'ha trovato questo pianista qua perché suonava in un modo talmente personale molto particolare però sulle strutture di Joe Henderson non c'era dubbio che lui suonava comunque bene quella musica là ma la suonava in un modo strampalato molto particolare e a me piaceva un sacco poi a un certo punto l'ho perso di vista poi e poi mi è venuta voglia di riguardarlo un attimino e ho sentito alcune cose che lui aveva fatto con gruppi più allargati dove c'era una incredibile armonia fra le parti che sembravano improvvisate e le parti che sembravano invece letteralmente scritte proprio tanto scritte e la musica fluiva così bene e sembrava così libera però capivi che c'erano delle strutture mi mise in uno scacco matto assoluto ho detto vabbè ancora non ci capisco granché pazienza passano cinque anni dopo cinque anni magari forse capisco niente negativo altri cinque anni ok vado avanti passano decenni e io non ci capisco ancora nulla è arrivato il covid ho detto questa è l'occasione perché qui veramente ho il tempo di mettermi lì mi sono messo e sono riuscito a capire terzo della musica di Andrew Hill mi è bastato per decretare dentro di me che per il mio gusto Andrew Hill appartiene a un'eletta schiera di grandi del jazz ma questo è stato proprio un fatto di finalmente riscoprire questa cosa e i dischi Blue Note degli anni 60 specialmente fra il 63 e il 69 sono dei dischi assolutamente da non perdere assolutamente ecco se posso darvi un consiglio dategli un occhio a Franco volevo chiedere durante tutte le nostre conversazioni anche attualmente lui è insegnante è un didatta i giovani questa è la cosa più importante i giovani che suonano jazz e i giovani che si devono avvicinare al jazz come vedi la situazione la situazione la vedo contraddittoria nel senso abbiamo molti giovani che suonano benissimo bravissimi fra i quali sicuramente c'è anche qualche genietto niente male due tre quattro quello che è comunque abbastanza per dire ma c'è un futuro nel jazz la nuova generazione bussa alla porta sono lì ma la sensazione è che siano isolati mi dico sempre ma avranno un fratello una sorella avranno non so una zia avranno qualche amico com'è che non vanno a vedere i loro concerti avremmo un pubblico un attimino più giovane ma questo non avviene per me è rimasto un grande mistero dispiace parecchio però qua si impone una domanda a proposito di questo argomento una volta tu mi hai detto suonando jazz impari a stare con la gente un gruppo di jazz quando funziona è il prototipo di una società ideale il jazz è una scuola di vita mi hai detto ed è anche godere la vita in un certo modo è ancora così e non trovi che questa parolina jazz oggi sia un po' troppo abusata anche a sproposito a me per esempio sembra che il jazz stia scomparente dalle programmazioni dei festival che si autodefiniscono festival jazz tu cosa pensi di questa cosa questo è completamente vero quello che stai dicendo è un'osservazione perfettamente centrata ed è un peccato perché jazz non è una parola è qualcosa di molto concreto e di grandissimo quindi dispiace che la parola jazz entri in situazioni che tu hai descritto molto bene e non posso fare altro che dire che hai ragione se finisce lì certo senti ci sono state alcune etichette discografiche si può leggere anche nel libro di Flavio che hanno avuto più di altre un ruolo importante nel promuovere la tua musica penso alla Red Records di Sergio Veschi e di Alberto Alberti oppure la filologi di Paolo Piangiarelli poi però a un certo punto tu li hai non so come definire abbandonate non so ti sei distaccato da loro per continuare il tuo percorso e per continuare a portare avanti le tue idee c'è qualcosa della musica che hai fatto con quelle etichette che rineghi e se sì quali? no no direi semplicemente con Sergio Veschi sicuramente abbiamo fatto delle cose niente male non c'è da rinegare quasi niente fondamentalmente Piangiarelli era un po' un bulimico della registrazione quindi ma questo deriva dal fatto che Piangiarelli è stato sempre in origine era un collezionista di dischi un bravo collezionista un forte collezionista che aveva rapporti con collezionisti di tutto il mondo alla pari insomma ed è uno che la sua idea è sempre stata quella di documentare qualcosa essere quello che documenta una storia amava il Gese ama il Gese tuttora in maniera sconfinata e in modo competente devo dire conosce molto bene questa musica rischia di esagerare semplicemente nella produzione io con lui ho fatto una bella somma di una quarantina di dischi che non è poco non è poco e quarantina di dischi in un periodo neanche lunghissimo ecco non so voglio dire fai conto tre dischi all'anno sono un po' tanti tre dischi all'anno e a Piangerelli però sono molto grato per questo aspetto qua perché alla fine nonostante avessimo ogni tanto qualche piccola divergenza nel senso sul soggetto del prossimo disco per esempio e abbiamo sempre trovato un compromesso e lui a un certo punto ha capito che il mio discorso era con lui mi sarebbe piaciuto fare qualcosa che aveva attinenza con una rivisitazione della storia del jazz cosa che con lui ho fatto senti Franco io come dire nel libro si legge molto bene qual è stato il percorso che ti ha portato a diventare quello che sei oggi uno sperimentatore senza per questo dare a questa parola diciamo un'accezione come dire troppo carica di significati la sperimentazione funziona se poi trovi qualcosa alla fine la musica anche quella più complessa è uno dei giochi più belli che si possano fare e tu ci sembra che continui a giocare ancora molto bene che cosa ci dobbiamo aspettare da Franco ad Andrea nel prossimo futuro e chi lo sa senti e poi nella tua vita hai suonato in ogni tipo di combinazioni quartetto quintetto orchestra ottetto hai fatto il piano solo hai fatto il trio e stasera ti esibisci in duo con DJ Rocca qual è ad oggi di queste dimensioni quella in cui ti trovi maggiormente a tuo agio quella che in quel momento mi piace di fare semplicemente cioè che sono stimolato a fare per esempio questa cosa con DJ Rocca è nata in questa maniera qua questa formazione questa idea di suonare in due io ho semplicemente riavvolto il nastro noi ci siamo conosciuti sei anni fa e poi piano piano abbiamo io l'ho voluto dentro in alcuni gruppi dei miei però capivo che DJ Rocca aveva delle possibilità inespresse perché lui è nel senso buono della parola è un vero virtuoso come quando si dice di Oscar Peterson virtuoso si dice è un virtuoso ma non è che è una brutta parola è semplicemente che è uno che suona con una naturalezza enorme questo strumento incredibile che è pianoforte e lui suona perfettamente questo strumento pazzesco che è l'elettronica nella sua totalità e allora mi sono detto in due magari lui è stimolato a fare di più e quindi a tirare fuori tutta la mercanzia che lui ha che è bella ricca lo vuoi spremere come un limone insomma no semplicemente penso che lui meriti di avere un'esposizione più importante anche nel nostro mondo del jazz senti Franco tu sei un uomo di 80 anni che ha concretizzato molto insomma ci sembra nella tua vita ma hai ancora un sogno nel cassetto? bisogna essere realisti meglio non avere troppi sogni nel senso ne hai io mi limito per ora a averne uno che oltre a quello con DJ Rocca che comunque è un sogno che si sta avverando e noi stiamo facendo ormai c'è un discorso che è legato al discorso dell'orchestra io non ho mai suonato con un'orchestra veramente larga ho fatto un gruppo che si chiamava Eleven di 11 elementi ma non era un'orchestra veramente tosta così del resto non mi sono mai occupato di arrangiamento ma recentemente ho conosciuto un arrangiatore veramente speciale creativo che era capace di entrare nel mio mondo chiamamolo così intervallare perché nel mio gergo ormai ricorre spesso questa parola molto semplicemente una struttura che mi sono un po' inventato io però che altri hanno usato nel novecento non c'è dubbio ma magari non in senso gezzistico o improvvisativo e questa cosa qua lui l'ha beccata con una grande orchestra perché al concorso di Barga che è un concorso per arrangiatori lui si ritrovò a dover arrangiare delle cose mie insieme ad altri perché era un concorso quindi naturalmente lui era veramente un po' come DJ Rocca rispetto a quel concorso famoso in cui io dissi beh ma lui sta là e gli altri stanno qua c'è poco da fare ecco anche lì lui era là e gli altri stavano qua ma chi è questo signore? è un signore che si chiama Edoardo Rojo Gonzales perché sai come vanno gli spagnoli se non hanno almeno tre nomi non esiste allora a questo punto questo signore che poi per comodità chiamiamo Rojo semplicemente ecco questo signore ha beccato questo sistema qua per conto suo io avevo semplicemente messo lì qualcosa perché non volevo condizionare nessuno ho detto per carità i pezzi sono questi qua fate quello che volete quello che vi passa per la testa io però uso in alcuni di questi pezzi ad operare un sistema particolare di combinazioni intervallari e mettevo delle piccole dei diagrammi mettiamola così però sono dei diagrammi che un musicista capisce perché significano determinati intervalli e la cosa del genere lui beccò questa roba qua e ci fece un arrangiamento per big band che è una cosa pazzesca e io sono rimasto lì e stare fatto e ho detto ma come ha fatto questo qua io non avevo mica detto niente ho buttato lì una cosa così tanto per dire per caso mi passa per la testa e allora dopo dopo questa questa constatazione ho detto questo è il mio uomo per fare qualcosa con una grossa orchestra c'è qualcuno di voi che vuole fare delle domande a Franco vedo vedo ho intravisto dei musicisti anche tra il pubblico quindi Alberto non so ok niente insomma come avete visto per me è sempre stato come dire un grande piacere parlare con Franco perché qualsiasi cosa lui dica per me è motivo di come dire grande apprendimento lo dico senza piageria e so che come dire tu hai dei tempi ristretti volevo soltanto aggiungere una cosa nel jazz il diktat è trovare la propria voce e sviluppare il proprio stile Franco D'Andrea è uno di quelli che è riuscito a fare tutto questo sperimentando in diversi ambiti e andando ben oltre i confini del jazz riuscendo ad ottenere come dire un approccio assolutamente personale direi assolutamente riconoscibile stasera lo vedrete interagire con un DJ con Luca Rocca Tagliati in arte DJ Rocca che è uno che ha lavorato con No We Be con Dimitri From Paris insomma in ambiti abbastanza diversi io per DJ Rocca adopererei un termine più gentile musicista un musicista che usa l'elettronica con grande competenza l'elettronica sì ecco vabbè scusami Luca sono stato un po' impreciso comunque uno che ha lavorato con nomi importanti appunto dicevo come O We Be Dimitri From Paris quindi in ambiti diversi da quello di stasera è uno che viene dal drum and bass dall'elettronica più spinta e adesso insomma sarebbe lungo diciamo tessere le lode di Luca perché se no poi non avremmo tempo sarà un grande piacere ovviamente vedere l'inazione tra un po' sul palco del Locus e io volevo ringraziare voi per essere stati con noi e soprattutto Franco D'Andrea e Flavio Capriera grazie grazie a tutti grazie a tutti Grazie.